5 nostri bigliettini, 6 vostri bigliettini, vediamo un pochettino che cosa mi capita, guardami fare No Steph, Steph non lo fare, Steph! Non sono riuscito a prenderne uno, vabbè vediamo con cosa si parte quest'oggi Cos'è? Festa in maschera, Fede Questo era nostro, questo era nostro che avanza ancora dall'altra volta E questo è tosto Bellissimo, bellissimo Ok, si inizia E ragazzi, come va? Io sono Pierini E io sono Steph, perché senti che è un GTA V E torniamo subito con un nuovo episodio di gara di vestiti Visto che vi è piaciuto davvero tanto, perché abbiamo letto tantissimi commenti fantastici Quindi siamo felici che vi sia piaciuto E siamo prontissime a iniziare con la festa in maschera Esattamente, io mi sono ancora lasciato il vestito della scorsa volta proprio per celebrare la mia vittoria E' piaciuto molto anche quello Temo che questa volta vincerai tu perché so già che sei carica al 100% Però voglio spiegare subito al volo una cosa Allora, nella tazza di oggi abbiamo le 5 categorie che sono rimaste dalla scorsa volta Avanzate Avevamo usato 5 su 10 E dopodiché 6 categorie che ci avete proposto voi Quindi, se capiterà una categoria che ci avete proposto voi Comparirà il commento della persona che ci ha proposto quel tema in particolare E noi lo faremo Quindi diciamo che è diventato anche già subito interattivo Oltre voti anche con le proposte Allora, possiamo partire Siamo qui perché qua ci sono le maschere Dato che è capitata appunto la festa in maschera E quindi per decidere il vestito abbiamo deciso di partire dalla cosa più importante La maschera Sì, beh, certo, infatti perché non mi metto gli abiti senza sapere che maschera mi metterò Oh mamma mia, Stef, ce ne sono tantissime nuove fantastiche Non hai capito che belle Oh che spettacolo Lui io non venivo a guardare le maschere da una vita Io da una vita e mi sto rendendo conto che ce ne sono davvero, davvero Ciao faremo Lì per fare ma Ma quanto costano però 25.000? Ma siamo pazzi Sì, costano parecchie Ma siamo pazzi Costano tanto Io non ho tutti questi soldi da spendere Allora, i clown sono strabelli Però mi sembra un po' troppo semplice Dai, vediamo se c'è qualcosa di super particolare San Valentino cos'è? Cosa stai vedendo, Stef? Guardami, Ferre Sono cupido Da cupido potrebbe essere anche un bell'abito Perché in effetti è una festa in maschera Quindi possiamo Non è male, non è male Pizzarrirci un pochettino Ci sono anche l'izzo No, vabbè, pieno di cose Qua ci mettiamo due ore soltanto a decidere A scegliere la maschera Cosa fare No, non ce la farò mai, Stef Qui mi stai mettendo davvero in difficoltà È davvero complicato Ferre, ma dove sei? Forza, muoviti, muoviti, muoviti Ho finito, Stef, ho finito Dove sei? Ferre No, non ci credo, Stef Cioè erano due miliardi di maschere Non ne ho fatto Perché non hai preso il cane? A te piacciono i cani Perché non hai preso un cane? Vi giuro, Consolini Che abbiamo fatto così Stef ha comprato la maschera prima di me E mi ha detto Inizio ad andare al negozio Così non mi vedi Io ho fatto la mia scelta Arrivo nel negozio E trovo Stef con la maschera da zebra Uguali Non ci credo Però tu sei vestito male Allora Voglio chiarire Sei leopardato invece di zebrato Io invece sono perfettamente zebrata Da uomo Non c'era nulla Io ho controllato tutto Ma non c'era lo zebrato Io ho preso questa maschera Per questo motivo Perché volevo farmi tutto zebrato Io invece sono stata furba Perché ricordavo Che da donna Ci fossero diverse cose A righe bianche e nere E infatti non ho approfittato Ho messo la camminata da fighetto Perché ci hanno consigliato Ho fatto di mettere anche le camminate Ok Fai anche qualche gesto Qualcosa Ah beh Bello Bisogna tornare indietro Certo 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 Sono d'accordo Sono d'accordo Ti vedo Pesca direttamente per il prossimo Perché tanto qua Non ho speranze Ma dimmi te che sfiga Guarda Iaiaiai Pensavo che anche da uomo Ci fossero un sacco di cose E invece zero di zero Invece no Vediamo cos'è stavolta Oh questo l'hanno consigliato I consolini Ok Ritorno a scuola Fallo vedere Ritorno a scuola Ritorno a scuola Quindi scolastico Questo è bellino Ok Questo è bellino So già cosa fare So già cosa fare Però come si toglie la maschera? Eh Sai che non lo so Me lo stavo domandando Proviamo del copricapo qua Vediamo se ci toglie In questo momento In ogni caso Ora silenzio Perché questa è una sfida Proprio Sì assolutamente Per me il round è più importante Ti devo sconfiggere Perché ho appena fatto una figuraccia Hey won't you pour me another I'm going in So wish me good luck Yeah I gotta put on my favorite song I need a boost Let's turn out the love No it is Way too late But I just can't get my eyes over you Maybe we Will regret this But tomorrow is another day And I will Ed ecco a voi la modella 2017 Per il ritorno a scuola Fere e Niki Vado Vado Ciao Fere Ciao 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 Aspetta Aspetta Giustamente ti devo anche salutare Olè Mi è mancato Olè Avevo mancato Ok Aspettate lo rifaccio Olè Non riparte subito Scusami ecco Così era con più foga E più bello Certo Certo Devi tornare anche indietro Ma il più lontano possibile Grazie Ma no Perché il più lontano possibile Dai è carino Con tutti quei tatuaggi Non ti ci si può vedere Vabbè però aspetta I tatuaggi non li potevo levare Quindi contate quest'outfit Come se non avessi i tatuaggi Ok Outfit di Fere Niki Fatto così Io invece ho scelto Dato che facciamo sempre La serie dove sono il professore Di fare l'outfit da professore Per il ritorno a scuola Quindi Ci sta Eccomi qui Ci sta Ci sta Come potete vedere Scarpe eleganti Pantaloni blu Poi c'è il tocco di classe Col gesto Cappellino Occhiali Guardate che bello che sono Ok Guarda il mio gesto Ok Questo lo faccio ai miei alunni Tutto il tempo Perché fanno chiasso Comunque c'è da dire una cosa Lei è zeccata Ti sei messo le stesse giacche A righe bruttissime Che usano i professori Esatto E l'ho fatto Totalmente apposta Quelle giacche Dici ma da dove essere Ponta fuori dagli anni 50 Secondo me L'ho fatto perfetto Ma io l'ho fatto abbastanza moderno Proprio da studentessa È proprio bello Secondo me Anche se devo dire che la gonna è un po' corta Eh vabbè Quella c'era Su 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 Tazza grazie Tazza 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 Vai 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 Allora E questa volta vedrete anche che cosa scegliamo Perché alcuni round ve li facciamo vedere direttamente con la cosa pronta Alcuni round invece scegliamo insieme a voi le cose Esatto Allora Sto pescando bene Fere te lo dico Vai 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 Cosa ti è successo Cos'è dimmi che è bello Ma per me o per te Bello per me Per me Gangsta Sì 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 Lo stavo sperando dallo scorso episodio che però non è uscito Quindi non vedevo l'ora Vai 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 È uscito ufficialmente Gangsta Adesso per me si fa difficile Raramente potrò vincere Però ci voglio provare Allora partiamo E togliamoci subito questo copricapo Perché altrimenti non riesco A pensare al resto Esatto bisogna pensare bene Quindi per ora mi metto una roba al rovescio Giusto per essere Un minimo tamarro Così almeno Per essere Tutto il resto fila liscio Già per entrare nel mood Partiamo Dalle parti superiori Mi viene sempre meglio E per fare il tamarro Gangsta abbiamo detto Posso fare diversi modi Possiamo fare la giacca in pelle Eh no ci sono tanti modi No però aspetta No perché se no poi rischi di essere troppo motociclista Uno ce l'ho Ce l'ho ce l'ho ce l'ho Ok ci sono ci sono Devo solo trovarle Ma ho già in mente Esattamente che cosa devo fare Queste sono terribili No 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 mi rifiuto Sono davvero troppo brutte Però qua No non sono neanche qui E dove le trovo? Cosa stai cercando di preciso? Eh non te lo dico Vabbè dimmi la cosa generica Che magari ti aiuto Eh la magliettona larga Capisci? Eh dovrebbero essere O giacche comode Penso no No neanche da me Magliette da trafficante Ma neanche per sbaglio Che brutte Devi controllare bene Magliette da lavoro Non ci siamo ancora Non sto trovando Forse una felpa Dai vediamo con le felpe Secondo me posso trovare Qualcosa che può andare Mamma mia Queste smanicate Sono la cosa più brutta del mondo Però si con le felpe Abbiamo già qualcosa di interessante Quindi vediamo un pochettino Sta andando decisamente meglio Sta andando decisamente meglio Mi sto avvicinando alla perfezione Non sono così sicuro Che riuscirei a vincere questo round Quindi concentrati Vedremo Vedremo Non sto facendo un brutto lavoro Quindi secondo me sarà tosta Eh vedremo 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 Questo perfetto Ovviamente adesso lo metto ancora con gli occhiali Quindi non sembra ancora un vero duro Ma ci penso subito io Allora Gli occhiali o li levo O metto qualcosa di stratamarro Vediamo se c'è qualcosa Che potrebbe andar bene Allora Di sicuro Nel caso casual Eh Suppongo di sì Suppongo di sì No Il boss della strada è arrivato Steph Guardatelo qua È il super boss Non teme niente Nessuno Guardate come si muove Non ha paura neanche di ferini Che potrebbe stendere Chiunque per strada Devo dire che l'abbiamo fatto Per dimostrarvelo Abbattanza simile Continuo a non guardare ferie Per dimostrarvelo Io vado qua fuori Ferie Seguimi Perché adesso stendo qualcuno Seduta stante Per dimostrare Quanto sono un gag star Signorina Signorina Ma no con le signore Eh lo so C'è un'altra signorina Ascolta Me la prendo con la macchina Guardate che cattiveria Guardate che cattiveria E quando finisco Per far capire A quanto sono cattivo Mi scrocchio anche le dita No abbiamo scelto la stessa Adesso Però quella è sempre stata la mia Non me la puoi copiare Steph Era perfetta Torna dentro al negozio Che ti devo fare la sfilata Vai su 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 Allora no voglio farla Proprio dall'inizio Allora la mia camminata Non è molto da duro È simile La mia camminata normale Quindi vuol dire che io Sono sempre un duro Sei pronta? Sì sono pronta Mi presento Ferienichi 2017 In versione Boss In versione? Boss Però non si riuscite a dirla Quando ho visto il tuo Alla faccia che ho fatto Allora il mio outfit È basato molto Sui miei accessori Quindi te lo voglio spiegare Ok Allora come noterai Al polso sinistro Ho un Come si chiamano Un orologio No gli smartwatch Scusa Vabbè un orologio Giustamente ho rubato Ok mi sembra Ecco poi Il teschio d'oro Per incutere timore Così come nei pantaloni Certo La scritta broker Che indica tutte le ossa Che io ho rotto Da gangsta Perfetto E gli occhiali del poligono Perché io giustamente Vado sempre a sparare Quindi neanche me li levo Alla munation Certamente Sì alla munation Quindi non me li levo mai Così sono pronta Sempre per andare a sparare Sì devo dire che mi è piaciuto molto il tuo outfit Devo essere sincero Siamo abbastanza simili Secondo me me la sono giocata bene anche io questa volta Allora lo stile è quello Quindi secondo me questa volta Devo dire che sono belli entrambi Perfetto Perché sono diversi belli entrambi Anche secondo me Adesso Fere Tocca a te o a me A te Perché avevo fatto io gangsta Ah sì avevo fatto il gangsta Quindi vediamo che cosa capita Secondo me ne capita un altro dei consolini adesso Speriamo Speriamo Ah ho un po' di paura Penso che sarò un vantaggio a questo punto della partita Quindi Ok Devo sperare in qualcosa che mi dà vantaggio Altro dei consolini Look militare Fai vedere Look militare Ok 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 Ci sta ci sta ci sta Militare E questo addirittura l'ha chiesto anche più di un consolino Lo so Evidentemente un look molto ambito Sono pronto Prontissima Outfit da militare secondo me Perfetto proprio C'è tutto 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 Ecco perché ci hanno consigliato i consolini Perché ci hanno proprio La categoria militare Esatto L'hanno appena messa con un nuovo aggiornamento Quindi c'è di tutto Allora Berretto Camicia Pantaloni Tutto abbinato Messo anche degli scarponi di quelli proprio comodi Perché cammini in zone diciamo Non proprio comode come la strada Ma Cosferrato Fango Di tutto e di più Quindi scarponi così Non ho messo accessori Perché secondo me il militare ci sta Bello libero No non deve avere accessori E ovviamente Il militare rende al meglio Quando va fuori E si equipaggia una bella arma Quindi adesso Mi prendo un attimino Un mio bel fucile E guardate quanto son perfetto Oh no Eh Incuto timore Vero? Sei pronta? Ma è bene Non è che c'erano Allora no Io ti dico C'erano diverse scelte Perché c'erano felpe Magliette Abbiamo messo la stessa camicia militare Abbiamo cambiato giusto la fantasia Cioè è il colore degli scarponi Perché siamo lì Sì 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 Consolini abbiate pazienza Ci piaceva Evidentemente abbiamo i gusti simili Vabbè però adesso Vai indietro che devo sfilare Scusa Ma no 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 Vai bene così Guarda Io non ti guardo Io non ti guardo Allora Steph Non puoi neanche picchiarmi qui dentro No stavo cercando di andare davanti alla tua visore Steph È impossibile Steph girati Steph girati E fai vedere il mio outfit ai consolini Grazie Grazie Perché è più bello del tuo La mia fantasia è più bella Non è vero Cioè da dire quello che La mia è classica da militare È più umidensi Ma la tua è un po' vistosa Troppo verde La mia è più mimetica Se siamo in un prato Vediamo Ti metti nel deserto Non c'è spuglio Io non mi vedrò mai Ma non siamo nel deserto Siamo in città Quindi al massimo nel verde Sì ma magari devi fare una missione nel deserto Bene dammi quella tazza Che pesco l'ultima categoria Devi mettere in conto Non farmi perdere tempo Non farmi perdere tempo E allora quando sei in un prato Come fai? Le foglie secche in autunno Bam Riesco a nascondermi sempre Fa sembra anche serio Allora tu sei il militare dell'estate Io sono il militare dell'autunno Ok ci stai? Ti piace? Mi hai sentito? Sì ma io sono più della primavera Che dell'estate secondo me Ok Però io dell'autunno Cos'è uscito? Consolini Guardate un po' Scelto da noi e scelto da loro Scelto da loro Ed è il ladro Uh bello Anche questo ce l'hanno chiesto in più di uno Bello questo è Sei pronta Fede? Sì prontissima Ok fammi vedere un po' il tuo auto Bello vero questo Ma che figo Bello te l'ho detto Allora praticamente sono andata al negozio Di maschera Ho preso il passamontagna E poi ho fatto tutto il vestito Ovviamente strafigo nero Perché un ladro deve essere vestito di nero Però vedi A differenza tua Perché già ti vedo Tu hai fatto il ladro tipo più povero Sai quando uno inesperto va a rubare per la prima volta Io ho fatto il ladro esperto Allora tu sei da rapinatore di banca Io sono da ladro da strada Capisci? Però ci sta Sono due tipi di ladro diversi Sono i due tipi di ladro diversi Io ho fatto vedete Proprio il classico rapinatore da strada Jeans Felpina nera Così un po' Apertina Cuffietta e lana Mi piace Se vedete uno così per strada Scappate da Non è vero dai La maggior parte delle volte Sono persone normalissime Che non c'hanno voglia di vestirsi bene Secondo me hai fatto un buon lavoro Grazie Cioè comunque ha senso Si capisce che sei un tipo losco Quindi ha senso Ok Io poi sono molto fiera del mio staff Mi piace molto Beh se ti vedo per strada Giuro che scappo Eh vedi Quindi sono proprio un ladro Totalmente Sì perfetta In ogni caso Abbiamo finito le cinque categorie Votate Vedremo appunto Chi avrà vinto questa sfida Secondo me L'avrà vinta Fede Ma vediamo un po' Comunque Non lo so Dai Questa volta Ce la siamo contene Esatto Almeno me la sono giocata Senza ombra di dubbio Vediamo un pochettino appunto Chi avrà vinto Speriamo che il video vi sia piaciuto Nel caso consigliateci ancora Tanti altri outwit da fare E ci fermiamo così Sperate che ci stessi Tutti Lasciateci un like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerarli Da iscrivervi Per non perdervi Di altri video Ciao Alla prossima Ciao 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 Ciao